La FBT ha deciso di acquistare un laser e una pannellatrice Salvagnini, laser L5 e la pannellatrice P2. A fronte di questo investimento abbiamo soffruito del servizio di Refink di Salvagnini per riottimizzare e adattare il nostro prodotto alle macchine Salvagnini. Il pannello frontale del nostro Evac Valle era fatto con tre pannelli fatti con punzonatrice e pressopiega, più altri quattro rinforzi ad L che venivano saldati insieme a questi tre pannelli. Il processo, oltre alla punzonatrice e alla pressopiega, prevedeva anche una carteggiatura finale perché la punzonatrice e la saldatura lasciano delle ribave e quindi abbiamo deciso di aggiungere questa fase per avere un pezzo ottimale. Con lo studio di Refink di Salvagnini abbiamo ridotto da tre plance e quattro rinforzi a solamente due plance. È migliorata anche l'aspetto estetico perché il taglio laser su un millimetro e mezzo di elettrozincata praticamente è perfetto e non abbiamo più il passaggio di carteggiatura per i bordi. Oltre al fatto che non abbiamo più il passaggio di saldatura, quindi anche tutto il pezzo esteticamente devo dire che è migliorato. I benefici del nuovo processo produttivo sono stati innumerevoli. Il primo è quello di velocizzare il taglio. Siamo passati da una punzonatrice a un taglio laser e abbiamo velocizzato la nostra produzione di almeno un 20%. L'impatto maggiore c'è stato nella piegatura. Siamo passati dai 6 minuti abbondanti, 7 minuti, a un 70-80 secondi di pannellatura. Gli ultimi due benefici di cui possiamo parlare sono la riduzione dello scarto della lamera, passando da punzonatrice a taglio laser. Questo miglioramento è circa del 20%. Un'altra cosa è la riduzione del costo dell'oggetto, che possiamo stimare attorno a un 20% circa. Grazie. 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 Grazie.